Tecnorete, agenzie immobiliari in franchising del gruppo Tecnocasa. Eugenio Echini, oggi diverse associazioni, diversi esponenti dei movimenti politici di Catanzaro, avete discusso su quello che viene considerato il modello Catanzaro. Lei lo ha definito un vero e proprio surrogato del modello Reggio. Sì, un surrogato, un appendice abbastanza ingloriosa di un modello che si sta decomponendo come neve al sole in questi giorni, si sta sfarinando e del quale tutto potevamo dichiarare ma non certo il bisogno di essere in qualche modo i limitatori di questo modello. Il modello Catanzaro è un modello che a noi non piace, lo autodefinisce così il consigliere Tallini, noi per sintesi definiamo questo modello Catanzaro come un modello che non ci piace, che inizia da lontano, per la verità, da pane politica, passando per la giunta Traversa e l'inopinata di missioni del sindaco Traversa, e culmina con questa vicenda attuale in cui oltre alle plurindagati e le porcherie di ogni tipo, dal punto di vista amministrativo, stanno emergendo, sta emergendo l'assoluta illegittimità di un modello e di una classe politica e di un certo rappresentativo consigliare, comunale, istituzionale, figlio di una campagna elettorale palesemente taroccata, inquinata, come documentato da tutte le indagini in corso, come è stato documentato dalla Digos, dal Tribunale Amministrativi e dalle esperienze, dagli occhi, dalle orecchie di tutti noi. Quindi noi non vogliamo questo modello, non lo contrabbandiamo in nome di una presunta governabilità, fra l'altro di una governabilità, di una buona governabilità, una governabilità che garantisca buone prassi amministrative, questo non è vero, non è mai stato vero, noi non abbiamo bisogno di questo, noi abbiamo bisogno di giustizia che vada a fondo, e quindi esprimiamo solidarietà, vicinanza e supporto alla magistratura e a tutti gli organi inquirenti. Non perché vogliamo mandare in carcere qualcuno, ma perché vogliamo giustizia. E con la giustizia vogliamo che gli amministratori ce li scegliamo noi, con un voto leale, con una campagna elettorale onesta e pulita e con la libera espressione al voto dei cittadini di Catanzaro che sapranno scegliersi i propri amministratori. Probabilmente auspichiamo che non siano questi, magari saranno di qualunque rappresentanza politica, ma devono essere persone che potranno sedersi legittimamente su questi scranni. Parallelmente a ciò che è emerso dalle indagini dell'amministratura, però abbiamo esito ad una non ribellione della città, ma anche ad una non ribellione della classe politica che si è vista esclusa poi di fatto dal sindaco Abramo. Secondo lei perché? Sì, ma qui siamo a presenza di quello che Italini stesso, noi concordiamo al 100%, lui definisce un colpo di Stato l'azione di Abramo nell'autoproclamarsi commissario degli altri, anziché innanzitutto di se stesso, essendo il principale interprete, responsabile, rappresentante di questa coalizione amministrativa, elettorale, politica e consigliare. E anche il massimo responsabile della Giunta che lui ha azzerato. Allora, se ha azzerato la Giunta vuol dire che ci sono responsabilità, ritiene, ci siano responsabilità politiche. La prima responsabilità è la sua. Allora, questo silenzio di tutte le persone che si sono fatte commissariare da Abramo, con un atto che io giudico inversivo, esattamente come lo giudica il consigliere Tallini, il silenzio di tutta questa gente è veramente, come dire, è un silenzio molto pesante, è un silenzio che fa pensare che siano d'accordo per rientrare in qualche modo dalla finestra o avranno qualche prebenda dopo o in qualche altro modo in cambio di questo silenzio. Noi invece non stiamo zitti, noi diciamo, e andremo a dirlo al prefetto, non chiediamo le dimissioni del Consiglio che hanno già chiesto in molti e speriamo che ciò possa anche essere accolto. Noi chiediamo come giudica questo atto in palese e versione costituzionale. Il silenzio deve andare a dimissionare il Consiglio Comunale e il Consiglio Comunale casomai le avrebbe potuto concedere un'altra chance qualora ciò fosse accaduto, saremo nella regola, saremo nella norma, saremo nella legge, saremo nella Costituzione. Ma non siamo così. Allora, di tutto questo silenzio noi non vogliamo essere complici, un'omissione sarebbe complicità, ne abbiamo parlato soltanto ora, soltanto oggi per la prima volta. Noi non ci stiamo, noi non contrabbandiamo, ripeto, il totem della governabilità con l'ingiustizia e con il mal costume e la mala politica, la mala amministrazione. Noi vogliamo che si vada avanti per la giustizia e si venga ripristinato un agire democratico a tutto tondo. Per chiudere, voi avete detto di voler dare voce ai cittadini, ma forse Catanzaro ha dato un'impressione di sé che ha fatto capire che magari ci si è interessati più al pettegolezzo che poi alla fattiva gravità della situazione. Ma sì, ma perché si sta cercando di normalizzare quello che è accaduto. C'è stato un assessore che si è macchiato di crimini da mal costume, diciamo, da buon costume, qualcun altro che ha fatto un abuso di un telefonino, insomma, sciocchezzone, me le marce le calciamo. Non è così. Queste sono cose che ci interessano davvero poco. Quello che interessa è che c'è atti, io penso al safe city, penso agli appalti, truccati, a tutti questi presunti reati che vengono ascritti ad Abramo e altri otto. Questo è il fascicolo aperto alla procura. Noi dichiariamo illegittima questa amministrazione. La dichiariamo illegittima ancorché vi siano indagini penali che seguiranno l'iter, anche lungo, che seguiranno. Noi il giudizio l'abbiamo già dato, è definitivo. La città, nei bar, per le strade, nelle piazze, nei luoghi di lavoro, esprime dissenso, esprime rabbia, esprime indignazione, ma non riusciamo a dare una voce, diciamo, istituzionale a questo dissenso, a questa rabbia, a questa indignazione. Noi ci proveremo a farlo. Da oggi noi partiamo per una permanente azione di dissenso nel dichiarare e nel ribadire la illegittimità di questi organismi, quantunque abbiano rinnovato l'aggiunta, anzi, proprio perché l'hanno rinnovata, è una missione implicita di colpa e di responsabilità, e cercheremo di dare voce ai quartieri, alle persone, nei modi che riusciremo ad attivare. Un appello ai cittadini di raggiungerci, cercheremo anche di avere dei punti di ascolto fisici, oltre che internet, facebook, social network, eccetera, perché questa presenza ingombrante di questo modello di malaffare debba finire.